All'estero per un po' di... cioè, ci hai un po' abbandonati? È stata una scelta forzata? No, è stato un regalo che mi sono voluta fare e mi sono autofinanziata in questa esperienza dove desideravo delle collaborazioni per quanto riguarda l'attività creativa per cui la scrittura di nuovi brani e l'ho voluto fare realizzando il mio grande sogno quello di lavorare nello studio di registrazione con Linda Perry e nel suo studio di registrazione a Los Angeles cosa che è stata un'esperienza che mi ha dato molto oltre ad aver maturato quattro dei brani che saranno presenti all'interno del prossimo album oltre anche a dell'ulteriore materiale al quale abbiamo lavorato che comunque fa parte di quella grande esperienza e poi c'è stata un'altra fase, sempre nel 2012 per cui mi sono divisa tra Los Angeles e no, Londra Londra con un altro produttore, io a Nivo dove ci siamo sbizzarriti anche in questo caso per quanto riguarda degli esperimenti di creatività e infatti da questa esperienza con lui nel prossimo album ci saranno tre brani e diciamo che è stato un regalo che mi sono voluta fare anche perché in quel momento ero distaccata da impegni contrattuali un po' anche volutamente perché mi ero sentita un po' appesantita dagli anni precedenti che era arrivato un po' tutto insieme, un po' tutto in corsa e ogni singolo album arrivava a distanza di 12 mesi per cui accavallando le varie fasi sia quelle di creatività, di live, promozionali e ho pensato che potevo farmi in quel momento un regalo che era quello di poter creare degli spazi più ampi tra un lavoro e l'altro e godermi di conseguenza le varie fasi Sei più tornata al supermercato? Una curiosità? Beh sì, la spesa la faccio un po' come tutti anche io mangio Ma dicevo dove lavoravi prima Sì, è un po' fuori zona per me ma sono in contatto con tutte le persone Grazie mille Per cui ho condiviso con loro Ciao Bocca a lupo, ciao